Chianti Classico Collecchio in 2010 alla stazione Leopolda a Firenze di cosa si tratta di una grande collezione di etichette di un territorio, quello del Gallo Nero, che è riconosciuto a livello internazionale. L'annata 2007 riserva e la 2008 saranno presentate a un folto pubblico di operatori, quindi addetti al settore, ma anche giornalisti che dovranno dare un giudizio. Sarà interessante scoprire insieme a voi qual è la situazione di questo grande vino. Andiamo a scoprirlo insieme! Grazie a tutti! Così come per la moda la sfilata è il momento più importante con le modelle in passerella, anche per il vino abbiamo un vero e proprio défilé. Qui le etichette si presentano, i produttori sono i couturier, i sarti che presentano le nuove collezioni. In questo caso poi sarà il pubblico a decidere cosa di grande e buono c'è nella bottiglia. Eですか? Cosa! Grazie a tutti.